Il vero amore ti cambia. Più che solo cambiarti, il vero amore ti trasforma, ti fa diventare una persona nuova. Il vero amore trasforma come pensi. Il vero amore ti fa assomigliare a Gesù Cristo sempre di più. Il vero amore cambia e trasforma come vivi, come tratti gli altri, come pensi agli altri, come parli con gli altri. E allora la domanda è come possiamo avere vero amore? Come possiamo amare così? Perché non è la nostra natura di avere vero amore. Per avere il vero amore, un amore che assomiglia all'amore di Dio, prima di tutto dobbiamo avere un nuovo cuore. Dobbiamo essere nati di nuovo. Dobbiamo avere il perdono in Gesù Cristo per essere una nuova creatura, perché non possiamo noi creare in noi spingendoci il vero amore. Non è possibile. Dobbiamo avere un cuore nuovo. E poi, per poter amare con il vero amore, dobbiamo in modo sempre di più conoscere l'amore di Dio. Dobbiamo conoscere l'amore di Dio, che vediamo soprattutto nel fatto che Dio ha mandato Vessù un genito figlio per essere il nostro Salvatore. Qual è uno dei problemi più grandi che le persone intorno a noi hanno con Dio? Perché Dio ha permesso questo? Se Dio è buono, perché permette quello? Perché per le persone di natura, per noi, senza l'intervento, lo Spirito Santo non si considera il peccato come il problema più grande. E quindi la domanda, ma se Dio mi amasse, perché non mi darebbe una bella vita? Ma quando lo Spirito Santo convince del peccato, della giustizia e del giudizio, e capiamo che il problema in assoluto più grande è il nostro peccato che ci separa da Dio e ci rende colpevoli quando arriverà il giorno di giudizio, allora capire che Dio ha mandato Gesù Cristo, non per darci una bella vita, ma per perdonarci, cominciamo a comprendere l'amore di Dio e questo ci permette, ci spinge ad avere il vero amore. Stiamo studiando l'Epistola di Primo Giovanni e stiamo vedendo varie prove che possono mostrare se siamo veramente salvati. Ci troviamo in capitolo 4 che, come gli altri capitoli, parla molto dell'amore. La vera salvezza produce amore gli uni per gli altri. La vera salvezza è fondata sull'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Abbiamo già detto che vediamo l'amore di Dio nel fatto che ha mandato su un genito figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ha mandato Gesù Cristo per salvarci, per salvare noi, peccatori. E noi vogliamo riprendere questo studio. Siamo arrivati in Primo Giovanni 4, versetto 14 che in questo versetto Giovanni, identificandosi come uno degli apostoli, cioè non lo dice ma quello che sta dicendo, dichiara che avevano vissuto. Quello che dichiarano è affidabile perché sono testimoni. Aveva iniziato questa epistola proprio, quello che abbiamo visto, che abbiamo toccato, che abbiamo dito. E gli apostoli avevano visto Gesù vivere, compri miracoli divini, lo avevano visto crocifisso, lo avevano visto risuscitato, lo avevano visto salire in cielo. e sono testimoni. Il messaggio che Giovanni e gli altri ci danno è un messaggio, una parola sicura. Seguite mentre leggo. Primo Giovanni 4, versetto 14. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Noi stessi, noi apostoli scelti da Gesù Cristo per essere i testimoni, abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Noi stiamo raccontando quello che Dio ci ha mostrato. non un sogno, non il nostro parere, no. Avevano vissuto con Gesù per tre anni, avevano visto i Suoi miracoli. Giovanni, Giacomo e Pietro erano stati con Gesù sulla Monte della Trasfigurazione, avevano visto la Sua gloria. Allora capivano che Gesù è veramente il Cristo venuto da cielo per compiere la salvezza. Allora, lui dice, noi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Consideriamo quella frase, il Padre ha mandato il Figlio. qui Giovanni fa riferimento al fatto che il Figlio era con il Padre in cielo. Il Figlio di Dio era con il Padre e dal cielo il Padre lo ha mandato al mondo. Lo ha mandato per essere il Salvatore del mondo, per compiere la salvezza. Abbiamo letto prima in Giovanni che lo ha mandato per essere la propiziazione per i nostri peccati. Questo è il modo che diventa il nostro Salvatore. Perché essendo la propiziazione ha pagato la condanna di tutti coloro che crederanno in Lui. E poi notate che è il Salvatore del mondo. Questo è importante. Non è solo il Salvatore dei Giudei. Non è solo il Salvatore per chi dice di essere cristiano. È l'unico Salvatore. Non puoi essere salvato senza Gesù e il Cristo. Quindi cristianesimo, il vero cristianesimo, non una religione, ma essere veramente in Cristo è l'unica salvezza. Non c'è altro nome che salva. Gesù, che era il Cristo diventato uomo, Gesù, il Nazareno. Non è solo Gesù che appare in altri modi. no, Gesù che ha vissuto in quel corpo è andato alla croce e è morto fisicamente e è risuscitato. Quel Gesù è l'unico Gesù. In Atti 4, Giovanni e Pietro stavano predicando nel Tempio, questo è dopo che Gesù era tornato in cielo, avevano guarito un uomo nel nome di Gesù, vengono arrestati, si trovano avanti i capi dei giudei e Pietro spiega che il nome di Gesù Cristo, il Nazareno, l'uomo che era stato crocefisso, è l'unico nome in cui c'è salvezza. Leggo Atti 4, da 8 a 12, Pietro che parla ai giudei. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto da un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocefisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che si è dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Molto categorico, Gesù Cristo il Nazareno, Gesù non appare in forme diverse e in religioni diversi. L'unica salvezza è in Gesù Cristo il Nazareno, quello di cui parla la Bibbia. È l'unica salvezza, è il salvatore del mondo. In questa pistola di primo Giovanni, tramite Giovanni, Dio rende chiaro che quella salvezza è per mezzo della fede in Gesù Cristo il Nazareno e quello che ha fatto sulla croce. Gesù Cristo, veramente Dio, veramente uomo. In secondo Pietro, l'epistola di Pietro, secondo Pietro, capitolo 1, versetti 16 a 18, Pietro spiega che la parola dichiarata dagli Apostoli è una parola sicura. Non è qualcosa che avevano inventato loro. Seguite mentre leggo quello che l'Apostolo Pietro scrive dalla loro testimonianza. Secondo Pietro 1, 16 a 18. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogidate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. e li ricevete infatti da Dio Padre onore e gloria. Quando dalla Maestosa Gloria gli fu rivolta questa voce, «Questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto» e noi udimo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. la testimonianza che noi abbiamo nella Bibbia da parte degli Apostoli è una testimonianza sicura. Non è i loro pareri. È una parola sicura che Dio ha dato a loro, che Dio stesso ha confermato loro con i miracoli e prodigi che ha permesso loro di compiere per mostrare che loro parlavano da parte di Dio. e allora capendo quello io dico grazie a Dio che Dio ha mandato Gesù Cristo il suo figlio per essere il nostro salvatore. Salvatore del mondo ma posso dire il mio salvatore puoi tu dire il mio salvatore il tuo. Passando al versetto 15 troviamo come abbiamo già visto vari un'altra prova della salvezza. Ricordate che questa pistola serve per mostrare come riconoscere la vera salvezza in base al frutto. Ricordate che bisogna che tutte le prove devono essere veri. Non basta che va bene queste due prove ce le abbiamo le ho ma quello lì non le ho no no devono essere tutti veri devono essere tutti veri. Se uno supera certe prove e fallisce in altri è un problema gravissimo e questa prova è una prova che vuol dire riconoscere che l'uomo Gesù Cristo è anche divino il figlio di Dio. Giovanni ci dà questa prova e poi ci dà una conseguenza meravigliosa di chi è veramente salvato. seguitamente leggo versetto 15 Chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio Dio dimora in lui ed egli in Dio. Questa prova della salvezza è il contrario di quello che abbiamo visto nei versetti 2 e 3 di questo capitolo. In quei versetti la prova è che uno doveva riconoscere che Gesù Cristo cioè Gesù Cristo quindi divino Dio è venuto nella carne è diventato veramente uomo. Nella prima prova in versetti 2 e 3 era di riconoscere che Cristo divino è diventato anche veramente uomo incarnato. In questo versetto è il contrario Gesù l'uomo è veramente il figlio di Dio è veramente divino. Bisogna credere entrambi non solo che sia divino ma non veramente uomo no devi capire che è divino ma è diventato veramente uomo non solo che è un uomo speciale no è uomo ma è anche figlio di Dio divino bisogna credere tutti e due come frutto della vera salvezza perché un salvatore che non fosse sia Dio che uomo non potrebbe salvare quindi Gesù Cristo è pienamente uomo ed è pienamente Dio credere e confessare questo è essenziale per la salvezza è anche essenziale superare le altre prove per esempio abbiamo già visto in questo capitolo amare gli uni gli altri se non ami gli uni gli altri non sei salvato camminare in santità chi cammina nel peccato non è salvato allora voglio rileggere questo versetto perché la verità lì è meravigliosa leggo chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio Dio dimora in lui ed egli in Dio questo è per chi è salvato Dio dimora Dio dimora in chi è salvato e chi è salvato dimora in Dio Dio non è lontano Dio non è mai lontano letteralmente dimora in ogni vero credente e la persona salvata dimora in Dio la vera salvezza non è seguire una religione è avere vera comunione con Dio perché siamo riconciliati con Lui le religioni e ce ne sono tanti tanti che si chiamano anche cristiani che gli uomini inventano insegnano come bisogna vivere ci danno le regole i comandamenti da seguire sperando che poi alla fine uno sarà salvato nelle religioni Dio rimane una figura lontana non è detto che si ti ascolta o no invece nella vera salvezza per mezzo di Gesù Cristo la persona salvate entra in un rapporto vero e diretto con Dio stesso e Dio dimora in quella persona e quella persona è in Dio questo è perché nella vera salvezza Gesù Cristo toglie l'ostacolo del peccato permettendo alla persona di entrare e restare in rapporto con Dio grazie a Dio per questo grazie a Dio per questo grazie a Dio per questo beneficio Dio stesso Dio stesso dimora in noi questo è grandissimo nel versetto 16 Gesù Giovanni spiega di più del fatto che Dio dimora in chi è salvato e quella persona è in Dio seguite mentre vado avanti e leggo versetto 16 e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui qui Giovanni approfondisce quello che aveva detto nel versetto 15 aveva Giovanni ha già parlato moltissimo dell'amore in questa pistola abbiamo già letto che l'amore viene da Dio che vediamo l'amore di Dio soprattutto nel fatto che Dio ha mandato su un genito figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati Dio ha fatto soffrire il figlio per amore nostro per pagare i nostri peccati la nostra condanna questo è l'amore di Dio quando Dio salva una persona apri gli occhi del cuore di quella persona a vedere e capire l'amore di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo se una persona non è sicura della salvezza cosa vedono di Cristo vedono che Gesù è morto per i loro peccati e ha pagato infatti questo versetto dice parlando a chi è salvato abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi nella vera salvezza lo Spirito Santo opera per toccare il cuore che la persona vede Gesù è morto per me lo vede c'è un punto dove non bisogna dirlo più perché la persona lo capisce vede il proprio peccato e vede Gesù Cristo come salvatore che è morto per lui e chi è salvato dice dimora nell'amore dimora nell'amore cosa vuol dire che letteralmente si aggrappa a questa verità si aggrappa al sacrificio di Gesù non lascia quel sacrificio non lascia quel tesoro ed è la perla di grande prezzo a cui si aggrappa Gesù è morto per me tu chiedi non hanno bisogno di un vero credente non ha bisogno di tempo di valutare cos'è la sua salvezza un vero credente sa Gesù è morto per me nella pistola agli ebrei leggiamo nei capitoli 4 5 che di entrare nel riposo in Cristo che vuol dire entrare nel riposo che Cristo ha pagato per me e sono salvato per mezzo suo e quindi un vero credente dimora nell'amore perché confida pienamente nel sacrificio di Gesù per la sua salvezza cosa vuol dire dimorare nell'amore vuol dire confidare veramente in Gesù Cristo all'inizio alla fine della salvezza un giorno buono un giorno bello non importa un vero credente si aggrappa a Gesù Cristo Gesù è morto per me e perciò notate quello che Giovanni dice alla fine del versetto sempre 16 chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui aveva già detto questo in 15 quindi chi veramente crede in quello che Gesù ha fatto fonda la sua salvezza su quello dimora in Dio e Dio in Lui Giovanni si ripete qui perché è così importante è così importante per noi di capire Signore Tu dimori in me ed io in Te o che possiamo ricordare questo allora passando ai versetti 17 e 18 troviamo un immenso e meraviglioso beneficio per chi è veramente salvato se tu sei salvato camminando in santità questa verità è per te seguitamente le leggo 17 e 18 in questo l'amore è stato reso perfetto in noi perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio che quali egli è tali siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore questo brano parla di quello che succede quando l'amore è reso perfetto in noi se ricordate nel versetto 12 abbiamo già letto dell'amore reso perfetto in noi io voglio leggere di nuovo il versetto 12 per avere un po' di contesto di quello che leggiamo qui leggo 12 nessuno ha mai visto Dio se ci amiamo gli uni gli altri Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi allora Giovanni lì ci dà una prova della salvezza quello di amarci gli uni gli altri e ci dà due risultati il primo è che Dio dimora in noi e il secondo è che il suo amore è reso perfetto in noi allora l'amore di Dio è reso perfetto in noi quando noi nel versetto 12 quando noi amiamo gli uni gli altri ora nel versetto 17 ci dà un risultato meraviglioso dal fatto che l'amore è stato reso perfetto in noi leggo di nuovo 17 in questo l'amore è stato reso perfetto in noi perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio che quale egli è tali siamo anche noi in questo mondo l'amore di Dio è reso perfetto in noi quando quello che egli è egli è Gesù Cristo quello che Gesù Cristo è tali siamo noi in questo mondo ecco quello che rende l'amore perfetto in noi che cos'è Gesù Cristo Gesù Cristo è santo Gesù Cristo è santo quindi l'amore di Dio è reso perfetto in noi quando noi camminiamo in santità Giovanni ha già spiegato chi cammina nel peccato non è salvato un vero credente cammina in ubbidienza cammina in santità non è meglio vivere così è fondamentale è frutto della vera salvezza dobbiamo confessare i nostri peccati noi cadiamo tuttora Giovanni stesso è chiaro che noi cadiamo tuttora ma non dobbiamo rimanere nel peccato quando cadiamo ogni volta che cadiamo dobbiamo correre a Dio per mezzo di Cristo e confessare i nostri peccati e allora camminiamo in santità e quello quale egli è santo tali siamo anche noi in questo mondo allora quando noi amiamo gli uni gli altri e quando camminiamo in santità l'amore di Dio è reso perfetto in noi e quando l'amore di Dio è reso perfetto in noi avremo fiducia nel giorno di giudizio quando camminiamo in santità avremo chiaro frutto della salvezza non stiamo parlando di una santità esterna dove seguiamo certe regole no allora io faccio questo e faccio quello mi vesto bene non dico pallorace non celebro Natale non faccio questo e tutte queste regole possono essere anche cose giuste ma la santità è interna la santità riguarda come vediamo il nostro peccato siamo pronti a riconoscere e confessare il peccato questo è camminare in santità stiamo parlando quindi di una santità di persona non di esterne di comportamento quando camminiamo così in santità questo ci permette di avere fiducia nel giorno del giudizio sappiamo che nel giorno del giudizio noi che siamo salvati saremo perdonati saremo accolti perché Gesù avrà già pagato la condanna dei nostri peccati pensando al giudizio finale e il fatto che ci troveremo davanti a Dio il versetto 18 spiega ancora di più come andrà per chi ha chiaro frutto della salvezza nella sua vita qui sulla terra questa persona è chi ha un amore reso perfetto questo amore che ha lo fa sì che lui ama gli altri e cammina come Cristo in santità quindi leggo il versetto 18 che ci spiega chi andrà come andrà per chi è così versetto 18 nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore quando c'è il vero amore di Dio quando conosciamo l'amore di Dio e amiamo Dio come risultato e amando Dio amiamo anche gli uni gli altri allora non c'è paura l'amore perfetto l'amore completo l'amore genuino caccia via la paura perché la persona così non teme più il giudizio perché sa che Gesù Cristo ha veramente pagato il suo debito e vede chiaro frutto della salvezza nella propria vita e frutto di cui stiamo leggendo in questa epistola grazie a Dio nella vera salvezza si può sapere senza ombre di dubbio di essere salvato Dio vuole che sappiamo alla fine di capitolo 5 di questa epistola Giovanni ci spiega vi ho scritto queste cose affinché sappiate che siete in Cristo che avete la salvezza quando crediamo in Gesù confessando i nostri peccati aggrappandoci al suo sacrificio sulla croce quando ci amiamo veramente di fatto gli uni gli altri abbiamo un chiaro frutto della salvezza un cammino di santità una vita di amare gli altri veramente è frutto della salvezza e questo frutto ci fa non avere paura allora è il contrario per chi non ha l'amore reso perfetto quando qualcuno non vede l'amore di Dio nel sacrificio e perciò non ama Dio come dovrebbe perché non riesce ad amare Dio come dovrebbe perché crede che deve meritare la salvezza e così non amerà neanche gli altri come dovrebbe non camminerà in santità perché non vedendo lo sacrificio di Cristo non è stimolato l'amore di quella persona non è il reso perfetto e quella persona giustamente ha paura del giudizio ha paura perché non può avere la pace di Dio per quanto riguarda la salvezza la vera paura non è per quello che potrebbe succedere in questa vita perché per quanto è terribile non è niente con l'eternità la vera paura riguarda la punizione eterna per chi non ha il perdono in Gesù Cristo quando uno cerca di superare il giudizio con le proprie forze non saranno mai sufficienti per quanto uno può fare non avrà mai la pace vera c'è paura avrà paura della punizione che arriverà ed è una paura giusta chi chi non ha perdono in Cristo dovrebbe avere timore dovrebbe avere grande paura ha bisogno di Cristo perché solo in Gesù Cristo c'è perdono se tu hai timore del giudizio finale ti chiedo stai guardando veramente a Cristo cioè stai vedendo il tuo peccato e guardando poi a Cristo e vedendo che Cristo è morto confessando pienamente chiaramente e abbondando i tuoi peccati credi che Gesù Cristo è Dio incarnato che è andato alla croce per morire al tuo posto e quello di tutti quelli che salverà c'è chiaro frutto della salvezza nella tua vita ti sta trasformando vedi vedi che ami le persone in modo che era impossibile per te prima vedi che per grazia cammini in santità la pace viene quando vediamo che io vedo in Cristo la mia salvezza e vedo frutto nella mia vita frutto che viene da Lui se non hai pace che sei salvato la prima cosa da fare è considerare se veramente sei salvato e di dire ma vedo Gesù come morto per me o ci credo intellettualmente ma vedo che devo io fare di più per essere perdonato confidi in Cristo o confidi in te stesso stai confessando peccati un chiaro frutto della salvezza e che vedi e confessi i tuoi peccati Dio vuole che abbiamo la certezza della nostra salvezza cioè Dio vuole darci la pace dandoci la certezza della nostra salvezza se non hai pace forse non stai guardando Cristo o può darsi ai peccati che non hai confessato l'amore perfetto in noi caccia via la paura perché il cuore è tranquillo perché vedo in Gesù chi ha pagato il prezzo una parte fondamentale della vera salvezza è che amiamo Dio però questo amore non origina in noi è il risultato del fatto che noi vediamo l'amore di Dio per noi cioè è quando noi vediamo e conosciamo l'amore di Dio per noi soprattutto nel perdono che noi amiamo Dio Giovanni ci ha già spiegato questo ma lo ripete qui nel versetto 19 seguitamente leggo 19 noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo è importantissimo ricordare questo tutto quello che noi dobbiamo dare a Dio abbiamo già ricevuto da Dio i Suoi comandamenti non sono gravosi in questo caso noi dobbiamo amare Dio ma noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo Dio ci ha amato quando eravamo Romani 5 ancora peccatori senza forza senza la capacità di fare nulla per salvarci in quella condizione Dio ci ha amato mandando Gesù Cristo per morire al nostro posto il nostro amore per Dio arriva in base a quanto vediamo l'amore di Dio per noi infatti è per questo che troviamo le preghiere di Paolo in Efesini 3 14 21 quando prega che Dio opererà miracolosamente in noi affinché possiamo conoscere la larghezza lunghezza altezza profondità dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza e quando vediamo l'amore di Dio per noi che noi non possiamo fare a meno che amare Dio il nostro amore per Dio è proporzionale a quanto vediamo l'amore di Dio per noi la vera salvezza comprende capire che Dio ha mandato Gesù Cristo per morire per i nostri peccati e poi questo ci fa conoscere l'amore di Dio e questo crea in noi un amore per Dio questo fa parte della vera salvezza però amare Dio non è solo una questione di dire io amo Dio ci sono tante persone che ho visto che dicono io amo Dio ma non c'è frutta che amano Dio Gesù dice mi pare tre volte nell'Evangelo di Giovanni se mi amate osservate i miei comandamenti chi mi ama osserverà i miei comandamenti quindi se uno dice io amo Dio e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo la verità non è in lui ma non solo il versetto 20 ci spiega un altro frutto di chi veramente ama Dio che non è solo una questione di parole chi veramente ama Dio amerà anche i figli di Dio leggo 21 e 22 scusate 20 e 21 se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello è bugiardo chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto come può amare Dio che non ha visto e questo è il comandamento che abbiamo da lui chi ama Dio ami anche il proprio fratello Dio ci comanda di amare Dio e anche di amare i nostri fratelli e sorelle e questi versetti rendono chiaro che è impossibile amare Dio senza anche amare i fratelli e sorelli non si può se uno dice di amare Dio ma non ama il proprio fratello il versetto dice è bugiardo è bugiardo no tu non ami Dio perché non stai amando il tuo fratello o la tua sorella allora il versetto 20 comprende un modo di parlare dove dice A uguale a B B uguale a C perciò A uguale a C guardate mi spiego meglio A è la persona che dice io amo Dio ma non ama il suo proprio fratello quello è B scusami odia il suo fratello in versetto all'inizio B è odia il suo fratello chi dice io amo Dio ma odia il fratello è bugiardo non ama Dio poi dice chi non ama il fratello non può amare Dio non può amare Dio può dire amo Dio ma non può amare Dio è bugiardo allora lui sta dicendo la stessa cosa in due modi ok sta dicendo prima che chi dice amo Dio è bugiardo perché non si può amare Dio se odia il fratello o se non ami il fratello e il punto è odiare il fratello è equivalente ad non amare il fratello nella Bibbia non amare e già odiare noi pensiamo noi pensiamo sempre a tre livelli amo non amo ma non odio o odio ah ma io non odio nessuno no nella Bibbia o ami o odi non amare e odiare questo è importante capire amare è impegnarmi a fare del bene e se il mio fratello ha bisogno e io posso fare del bene ma non non voglio non ho tempo devo pensare alle mie cose il mio la mia mancanza di amore fa male a lui questo è odio il punto quindi è che se uno non ama il fratello che ha visto non può amare Dio se tu non riesci ad amare i fratelli e le sorelle che tu puoi vedere tu non puoi amare Dio e perciò troviamo 21 leggo di nuovo e questo è il comandamento che abbiamo da lui chi ama Dio ami anche il proprio fratello questo brano non dovrebbe farci dubitare la salvezza questo brano dovrebbe stimolarci ad amare gli uni gli altri di più infatti come ho detto in altri sermoni su questa pistola le prove non sono solo per farci dubitare la salvezza no le prove sono per dimostrare chi non è salvato e per spronare e spingere chi è salvato ad ravvedersi dove ha peccati dove sta mancando è estremamente importante capire questo la salvezza non arriva dalle nostre opere non arriva dal fatto che io amo i miei fratelli e sorelle ecco sono salvato perché li amo no tu sei salvato perché hai visto il tuo peccato e hai visto in Gesù Cristo il perdono solo così c'è la salvezza il perdono però la vera salvezza sempre produce frutto è un frutto che troviamo in questa pistola comprende anche amare i tuoi fratelli e le tue sorelle se non ami i fratelli e le sorelle non c'è frutto di salvezza tu non ami Dio è scritto in modo molto chiaro chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto come può amare Dio che non ha visto e la chiara risposta è non può non può e amare Dio è fondamentale per la salvezza quindi è importantissimo quando vedo un campo in cui non vedo frutto non è che devo dire eh allora non sono salvato se tu lo dici con quel tono di voce promette non sei salvato se non ti aggrava ma anziché disperarti oh non sono salvato dovresti dire Signore grazie che mi mostra un campo della mia vita in cui non sto camminando perdonami che perdonami fortitemi adesso io cammino in questo campo perciò alla luce di tutto questo come vivremo che cosa vediamo ancora oggi come altre volte abbiamo visto che abbiamo visto più dell'amore di Dio per noi questo amore così immenso che per nemici peccatori ha mandato suo unigenito figlio Gesù Cristo a prendere su di sé i nostri peccati questo è incredibile a subire l'irida di Dio a posto nostro che immenso amore capendo questo amore non possiamo non amare Dio più vediamo di cuore l'amore di Dio per forza amaremo Dio e se noi amiamo Dio per forza amaremo i figli di Dio perché sono preziosi per Dio perché Dio ha dato Gesù Cristo per loro come per noi per forza li amo è un gravissimo problema quando uno che dice di essere credente non ama altri credenti è un problema biblicamente non ama Dio biblicamente non è salvato se ti trovi che ti è difficile riconosce la gravità del tuo peccato stai guardando non tenendo conto del tuo debito con Dio che Cristo ha pagato e questo ti ostacola ad amare la persona ravvediti finché c'è tempo e ci sono volte dove è difficile amare qualcuno ve lo dico io ma cosa possiamo fare correre a Dio e confessare il nostro peccato signori so che devo amarlo ma mi è difficile cambia il mio cuore fammi vedere il mio peccato fammi vedere che il mio debito con te è più grande del suo debito con me e poi possiamo pagare ricordate che un frutto della vera salvezza è quello che Gesù è tale saremo noi in questo mondo che vuol dire santi cammineremo in santità come Gesù ha camminato sempre in modo santo anche chi è salvato in Cristo camminerà in santità che vuol dire riconoscere e confessare i peccati oh ringrazio Dio per questo ringrazio Dio per un amore che supera l'intelligenza che non possiamo comprendere a fondo oh che possiamo conoscere di più questo amore oh che possiamo camminare in santità oh che possiamo amarci gli uni e gli altri tutti per la gloria di Dio preghiamo oh Padre spesso manchiamo spesso manchiamo tu ci chiami ad essere santi come Gesù è santo tu ci chiami ad amare come tu ami e siamo mancanti non abbiamo la santità di Cristo non amiamo come tu ami noi perdonaci perdonaci Padre opera in noi che possiamo essere fissati su Cristo ti prego grazie per lo spirito che non ci abbandoni ti prego che possiamo vedere di più il tuo amore che hai dato quello che era più prezioso per te il tuo unigenito figlio a venire a essere abbandonati da te a subire la tua ira tutto per salvarci grazie oh Padre per un sacrificio così grande aiutaci ad amare gli uni gli altri a camminare in santità in attesa di Gesù Cristo ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo Amen Amen